La legge di Ohm. Oggi introdurremo una regola fondamentale dell'elettronica che è la legge di Ohm che ritroverete poi in tutti i circuiti che andrete a realizzare ed è una legge semplicissima che lega le tre grandezze, corrente, tensione e resistenza. Bene, iniziamo subito. Oggi parleremo della legge di Ohm, è una relazione molto semplice, fondamentale per andare a risolvere circuiti elettrici e elettronici. È una legge che si può scrivere in questo modo, V uguale I per R, esprime un legame tra tre grandezze che sono la tensione, la corrente e la resistenza. Quindi all'interno di un circuito queste tre grandezze, qui la tensione, corrente e resistenza, sono sempre legate dalla legge di Ohm. Con questa legge semplicissima è possibile andare a risolvere e calcolare un gran numero di situazioni e di circuiti elettrici. Vediamo come funziona con un esempio. Immaginiamo di avere una batteria, un generatore, creiamo un circuito semplicissimo formato da un generatore con una semplice resistenza collegata. La resistenza a valore R. Immaginiamo che ovviamente la tensione sia nota, quindi abbiamo dieci volt. Non conosciamo la corrente che circola qui, quindi la corrente è ignota e ovviamente conosciamo la resistenza che supponiamo valere un Ohm. Ho dato per scontato alcune cose, quindi che le resistenze si misurano in Ohm e sappiate come funzioni. Una resistenza elettrica è un componente che riduce il passaggio della corrente, lo limita, è come se fosse un restringimento di un tubo. Se questo qui fosse un circuito idraulico è come un tubo di gomma su cui è appoggiato un piede e rallenta la corrente. Questo detto in termini da Shura Maria. Le resistenze hanno valori che vanno da pochi Ohm o frazioni di Ohm fino anche a milioni. In questo caso ne utilizziamo una da un valore di 1 Ohm e vogliamo calcolare la corrente che circola nel circuito. La tensione del generatore è applicata direttamente anche alla resistenza, quindi possiamo trasformare la legge di Ohm e dire che I è uguale a V fratto R. Rigirandola come un calzino basta inserire i valori che abbiamo, quindi ai capi della resistenza ho una tensione di 10V, quindi 10 diviso il valore della resistenza è 1, quindi 10 diviso 1 fa 10, 10A ed è la corrente notevole che attraversa la resistenza. Sono parecchi, questo ovviamente è un esempio. Per oggi tutto avete visto i concetti sono semplici e non sono difficili da ricordare. Utilizzeremo le GD Ohm sempre più spesso in tutte le realizzazioni future, quindi tenetela ben stretta e soprattutto se avete dubbi lasciate un commento e cercherò di rispondere il prima possibile. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo domani. Ciao!